Il tema del turismo affano e di come promuovere la città è entrato a pieno titolo nella dialettica elettorale. Tutti, chi più o chi meno, hanno inserito nel proprio programma una serie di ricette o proposte su come svincolare solamente dal periodo estivo l'arrivo di turisti barra visitatori nella città della fortuna. I ponti e le festività primaverili hanno sempre fatto da apripista, le stagioni turistiche, da che mondo è mondo ed in tutte le località vacanziere italiane per queste festività si sono messi in strada oltre 6 milioni di italiani e qualcuno a giudicare dal registro delle presenze è anche passato da Fano. Abbiamo avuto una Pasqua quasi buonissima però l'apertura delle strutture c'è stata, hanno risposto bene i turisti, naturalmente abbiamo avuto anche un weekend eccezionale con degli eventi sportivi di alto livello. Se il turismo strettamente balneare non deve essere la sola voce a saldo attivo nel bilancio cittadino del turismo, una grossa mano la possono dare gli eventi o le manifestazioni a stampo sportivo o associazionistico che portano oltre ai protagonisti anche gli accompagnatori e le famiglie, triplicando così le presenze sul territorio come avvenuto per il tiro a volo con oltre 300 presenze. Noi chiediamo da anni questo palazzetto di 4 mila posti però abbiamo anche delle strutture d'eccellenza. Il tiro a volo ha portato tanta gente, ma gente che è venuta sia per dire che Fano è bella ma anche per il loro sport. Abbiamo avuto il modellismo aeronautico, è stato un bel evento e quello che naturalmente ci porta gente tutto l'anno, il paracadutismo, avevamo la nazionale tedesca Fano. Domani primo maggio giorno di festa ma anche capitando di mercoledì inizio dell'ultimo grande ponte di primavera. Allora il primo di maggio naturalmente siamo sempre legati al tempo, tutte le manifestazioni sono legate al tempo. Il primo di maggio a livello turistico può essere anche questo è un nostro biglietto perché abbiamo già i punti IAT aperti sia a Torrette che al porto, poi abbiamo anche il discorso della Colle Marathon che porta tanta tanta gente nei nostri alberghi e anche quello ci fa una promozione non indifferente per l'entroterra.